Il corto e mangiato è ormai giunto all'ottava edizione ed è appunto una raccolta di cortometraggi organizzata dall'Istituto Alberghiero su stimolo dell'Associazione dell'Ambasciatore della Nuova Gastronomia. Il tema di quest'anno sono le energie alternative. Questa sera sono stati proiettati alcuni cortometraggi delle passate edizioni. Siamo qui con il sindaco Paolini, sindaco di Isola del Piano, comune del biologico per l'Antonomasia, a quale chiediamo come è nata questa iniziativa corto e mangiato con Alberghiero di Pesaro. Innanzitutto stasera ci siamo qui a vedere questa selezione delle passate edizioni, e dei migliori filmati delle passate edizioni è grazie al professor Pagnoni Paolo dell'Istituto Alberghiero e che insieme alla professoressa Silvana Maite aveva avuto questa intuizione, questa idea di fare un evento legato al cinema e al cibo e l'idea era quella appunto di fare dei cortometraggi, di cercare dei cortometraggi e invitare dei registi o della scuola che avessero fatto dei cortometraggi sul cibo a questo evento. La cosa poi ne parlarono con Gino Girolamoni e poi anche con il comune di Isola del Piano che da subito abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa perché non è solo propedeutica, ha un'alimentazione più sana eccetera, ma lega proprio la cultura del cibo all'interno anche delle scuole con dei lavori bellissimi che sono stati fatti in questi anni e credo che sia una cosa importante anche perché alcuni temi molto importanti vengono trattati anche con un sorriso, una critica, ma anche con ironia e si riesce praticamente a essere più incisivi nel messaggio. Oggetto di queste, sia delle passate edizioni che delle nuove, sono legate al biologico, sono legate all'energia alternativa, l'anno scorso era il migliore utilizzo dell'acqua, quindi il non spreco dell'acqua eccetera. C'è dietro anche un discorso economico mi sembra, una nuova economia che si sta affacciando sul mercato e di questi tempi diciamo... Diciamo che più che parlare di economia sono delle teorie di Latouche per la decrescita felice per cui parlare di economia è sempre abbastanza problematico anche se poi è una cosa con cui devi fare i conti. Diciamo che sono temi che affrontano a tutto tondo un modello diverso di sviluppo cioè che è fatto nel rispetto sia dell'ambiente che degli animali che delle persone eccetera. È un discorso molto molto ampio, cioè è una cosa che ha 360 gradi di un vivere un po' leggermente diverso da quello che abbiamo fatto adesso ma radicalmente diverso da quello che ci propone il mass market e che ci propongono gli spot pubblicitari tutti i giorni. Siamo con Sara Bracci, segretaria dell'Associazione dell'Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia e allora che ruolo ha questa associazione e che fini si propone? Allora l'associazione è nata nel 2009, 6 novembre 2009 proprio per promuovere e sviluppare quella che è la cultura dell'Enogastronomia delle nostre zone e naturalmente l'Enogastronomia locale. è una gastronomia che è fatta di vino, di cibo, di prodotti di nicchia e di prodotti di piccoli agricoltori che hanno bisogno di essere sviluppati anche attraverso manifestazioni come quelle di corto e mangiato dove la cultura dei cibi, non solo nostri marchigiani, viene sviluppata e promossa. Bene, è una, diciamo, dietro queste iniziative c'è un nuovo mondo, c'è una nuova economia che si sta sviluppando e l'Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia ha qualcosa da proporre per migliorare, non so, l'aspetto commerciale, l'aspetto divulgativo di questa cultura? Beh, sicuramente in questo momento bisogna far tesoro, ed è quello che è anche scritto nella mia tesi che ho sviluppato per l'Università di Bologna due mesi fa, bisogna far tesoro del proprio capitale sociale e penso che sia la strada per il futuro, cioè collaborare e sviluppare quello che sono i nostri tesori non tanto materiali, ma quanto di collaborazione con persone, agricoltori, ecco, persone che si occupano proprio di enogastronomia e lo fanno con la passione e col cuore e quindi la collaborazione reale, vera, partendo dal basso io penso che sia la prima forma che possa sviluppare e portare avanti quella che è la passione in cui crediamo. Questa sera è stato presentato il programma per l'ottava edizione di Corto e Mangiato, siamo con Paolo Pagnoni, uno dei docenti dell'Istituto Alberghiero di Pesaro e uno degli organizzatori anche quest'anno della manifestazione. Questa sera avete proiettato una serie di filmati delle precedenti edizioni e quest'anno invece, ecco, parliamo un po' dell'iniziativa di quest'anno, oggetto, abbiamo detto, le energie alternative. Le energie alternative, le fonti di energie rinnovabili che, riprendendo le parole di Gino Girolomoni a proposito della terra, della coltivazione, le energie rinnovabili sono importanti anche nel biologico perché lui ricordava appunto che mangiare è sì un atto agricolo ma è anche e soprattutto un atto ecologico e quindi il rispetto per la terra, il rispetto per la tradizione, il rispetto per la coltivazione senza violentare la nostra terra è fondamentale. Ricordiamo alcune date della prossima edizione, allora entro che data si possono presentare i filmati? Allora, i filmati possono arrivare fino al 10 marzo, presso, chiedo scusa, sul sito di www.cortemangiato.com si può trovare, diciamo, sia il bando, la filosofia del festival e anche a chi indirizzare appunto i filmati fino al 10 marzo. Il 3 di aprile sarà la serata in cui, anzi sì, la serata in cui i filmati scelti da una giuria di 60 ragazze dell'Istituto Alberghiero di Pesaro arriveranno in finale e verranno proiettati al Monastero di Montebello ingresso pubblico e gratuito, quindi chiunque vorrà potrà visionare i 10 film arrivati in finale. In questi 10 film verrà scelto il vincitore e gli altri tre premiati da una giuria composta da esperti e dai sostenitori del festival e presieduta dallo scrittore Andrea Di Carlo. Bene, grazie e in bocca al lupo per l'iniziativa. Amici di Onda Libera, un saluto.